Un migliaio di piantine di marijuana sono state scoperte dai carabinieri nella piana di Gioia Tauro. A Delia Nuova i militari della stazione locale hanno individuato in un terreno di libero accesso una coltivazione di circa 150 fusti da circa 2 metri l'uno, verosimilmente di cannabis indica. In questa circostanza, dopo il prelevamento di alcuni esemplari per il campionamento, la piantagione è stata totalmente distrutta. Situazione analoga, si è verificata tra Serrata e Galatro, dove in località Prateria i carabinieri hanno scoperto una coltivazione di canapa con circa 350 piante. Anche in questo caso, dopo la campionatura, si è proceduto alla distruzione delle piante. Anche nel territorio di Gioia Tauro sono state sequestrate circa 500 piante di cannabis.